Ti è piaciuto il corso di grafica? Sì, ho utilizzato all'università i tre programmi, però ho sempre avuto, diciamo, ho imparato a scoprirlo da solo, quindi questo corso mi ha aiutato ad approfondire le conoscenze, soprattutto di Photoshop, che ho utilizzato davvero poco all'università, quindi mi ha servito molto. Ok, come sei arrivata a noi? Perché hai scelto a noi? Su internet, ho trovato il sito su internet cercando appunto qualcosa da fare durante quest'anno, perché mi sono laureata a ottobre.